no non ci sei riuscito riprova riprova ok vai parte vai ma lo fai apposta di la verità lo fai apposta non arrivare ma veramente dai dai tirati su usa anche le braccia usa anche le braccia non per volare ma ti per aggrapparsi ai bordi ok dai bene ok dai fai un saluto a favore di telecamera ecco